ciao ben ritrovata tutte quante oggi ho fatto una mini lezione per il montaggio dei fili del ciondolo a coma eccolo qui questo qui non è questo il tutorial perché ho fatto con dei filati silonna però perché ho fatto questa mini lezione e c'è un buon motivo si vede nel tutorial che inserirò domani si vede benissimo l'introduzione e tutto quanto però non convinta e poi per lasciarlo diciamo nella sezione dei principianti dei nodi per i principianti ho creato questa mini lezione per inserire i fili spero che vi piaccia e mi aspetto un like non è forzato è giuro giuro non vi forzo come ho detto nell'anteprima adesso vi faccio vedere come vanno inseriti i filati al centro e questo ciondolo che spero sto preparando il tutorial di inserirlo domani al massimo domenica e sarà suddiviso in due o tre video vediamo perché lo sto montando adesso vi faccio vedere come montare l'unica problematica che ho avuto lavorando con il silon che man mano che creavo questo filato è stato un po satinato e non ho avuto problemi con il silon si aprivano i nodi e poi vedrete il tutorial anche però adesso andiamo a vedere come si montano prendiamo due filati io ho preso a caso diciamo le misure li dividiamo a metà e facciamo questo diciamo cappietto passiamo sotto da destra verso sinistra e lo lasciamo qui e con questo da sinistra che deve andare verso destra passiamo in questa maniera qui sotto prendiamo i due filati da questa parte sempre tenendo qui li passiamo sopra vedete e tiriamo questo filato è ottimo perché non fa scivolare ma non sarà questo il filato del tutorial è un silon adesso prendiamo altri due fili noi che cosa abbia fatto abbia fatto un cappietto da destra verso sinistra adesso facciamo l'opposto di quello che abbiamo già creato e passiamo da sinistra verso destra passando sotto prendiamo un altro filato e facciamo una parte opposta passiamo questo sotto e poi prendiamo i due filati e li passiamo sopra dentro al cappio in questa maniera lo ripeto perché dobbiamo alternare mi raccomando è spiegato anche nel tutorial che inserirò del ciondolo però così si vede leggermente meglio adesso ripassiamo perché una volta vado a destra a sinistra e un'altra volta a sinistra a destra ne abbiamo fatti due adesso ricominciamo da destra verso sinistra passiamo sotto prendiamo questi filati e li passiamo dentro diciamo al cappietto chiamamolo cappio e tiriamo e mettiamo sopra adesso ne prendiamo altri due e facciamo l'opposto ecco qui facciamo anche sempre a metà è il figlio deve essere a metà il più possibile teniamo un poco di più passiamo sotto e poi prendiamo i due filati e li passiamo sopra in mezzo proprio al cappio ecco qua e questo è il montaggio dei fili per il ciondolo e poi quanti ne volete io per questo ciondolo ne ho inseriti 10 che poi naturalmente diventeranno 20 no 10 filati per due e qui invece ne ho inseriti un po di più vedrete nel tutorial spero che sia stato chiaro questo preparati i filati mi raccomando se avete il silon è molto meglio io ho operato per il tutorial un 0 50 come sempre se vi è piaciuto questa mini lezione mi raccomando lasciatevi un commento sotto e un bel like in modo che mi aiutate a far crescere il mio canale di youtube ciao ciao